quindi è più un problema il morire o è più un problema il non sapere cosa ci accade quando moriremo o è un problema il non sapere a quali leggi una volta morti noi saremo sottoposti perché se siamo sottoposti a leggi naturali dal momento che nasciamo saremo sottoposti a leggi naturali anche dopo che moriamo e ci sono scoperte posso citare lo scienziato tedesco albert fritz pop nel 1976 pensate 76 pop scopre che il corpo umano emettono luce biofotoni li hanno chiamati quindi noi siamo luce oggi oggi ci sono apparecchiature scientifiche che addirittura la luce emessa dal corpo luce pulsante la possono filmare quindi noi siamo la luce la luce che fai la vaccini ma di cosa stiamo parlando stiamo impazzendo questo è il problema michele l'umanità è impazzita in delirio totale una società di folli e chiudo citando albert fritz pop quello che ha scoperto i biofotoni oggi sappiamo che l'uomo in sostanza è un essere di luce oh ma guarda ce lo dice uno scienziato da migliaia di anni ce lo dicevano i mistici allora scienza michele scienza della assolutamente la moderna scienza di fotobiologia sta attualmente dimostrando questo in termini di guarigione le implicazioni sono immense ora sappiamo per esempio che i quanti di luce sono in grado di avviare o arrestare reazioni a cascata nelle cellule e che un danno cellulare genetico può essere virtualmente riparato in poche ore da deboli fasci di luce siamo ancora sulla soglia di comprendere appieno il complesso rapporto tra la luce e la vita ma ora possiamo dire con forza che la funzione di tutto il nostro metabolismo dipende dalla luce fantastico guarda intanto luce eterna che viene dall'amore di un essere meraviglioso che ci ha creato e gli sputtiamo sulla faccia rovinando la sua divina creazione la sua esperanza di un essere meraviglioso che ci ha creato per gli altri